capitolo 27 gran combattimento tra Pinocchio e i suoi compagni giunto alla spiaggia Pinocchio dette subito una grande occhiata al mare per vedere se trovasse il pesce cane ma non c'era nessuno il mare era liscio come un gran cristallo da specchio o il pesce cane dov'è sarà andata a far colazione rispose uno dei suoi compagni ridendo ma oppure si sarà buttato sul letto per fare un sonnellino disse un altro da quelle risposte sconclusionate Pinocchio capì che lo avevano preso in giro e ora disse che sugo ci avete trovato a darmi ad intendere la storiella del pesce cane il sugo c'è sicuro risposero in coro coi monelli e sarebbe quello di farti perdere la scuola e di farti venire con noi non ti vergogni a mostrarti tutti i giorni così preciso così diligente non ti vergogno a studiare tanto e se io studio che cosa ve ne importa a noi ce ne importa moltissimo perché ci costringe a fare una brutta figura con il maestro e perché è perché gli scolari che studiano fanno sempre scomparire quelli come noi che non hanno voglia di studiare e noi non vogliamo scomparire anche noi abbiamo il nostro amor proprio e allora che cosa devo fare per contentarvi devi prendere a noi anche tu la scuola la lezione il maestro che sono i nostri tre grandi nemici e se io volessi seguitare a studiare noi non ti guarderemo più in faccia e alla prima occasione ce la pagherai in verità mi fate quasi ridere disse il burattino con una scrollatina di capo ehi pinocchio allora gridò al più grande di quei ragazzi non venire qui a fare lo sbargias non venire qui a far tanto il galletto perché se tu non hai paura di noi non abbiamo paura di te ricordati che tu sei solo e noi siamo in sette sì sette come i peccati mortali disse pinocchio avete sentito ci ha insultati tutti ci ha chiamati col nome di peccati mortali pinocchio chiedici scusa dell'offesa se no guai a te cucù fece il burattino battendosi con l'indice il naso pinocchio la finisce male cucù ne toccherai quanto un somaro cucù ritornerai a casa col naso rotto cucù sì ora il cucù te lo diamo noi prendi intanto questa conta serbalo per la cena di stasera e nel dir così gli appiccicarono un pugno sul capo ma fu come come si suol dire botta e risposta perché il burattino come c'era ad aspettarselo rispose subito con un altro pugno e lì da un momento all'altro il combattimento diventò generale e accanito pinocchio sebbene fosse solo si difendeva egregiamente come un eroe con quei suoi piedi di legno durissimo lavorava così bene da tener sempre i suoi nemici a rispettosa distanza dove i suoi piedi potevano arrivare e toccare ci lasciavano sempre un livido per ricordo allora i ragazzi indispettiti di non potersi misurare con il burattino corpo a corpo pensarono bene di mettere mano ai proiettili e sciolti i fagotti dei loro libri di scuola cominciarono a scagliare contro di lui i sillabari le grammatiche i giannettini e tutti gli altri libri che avevano ma il burattino che era d'occhio svelto e ammalizzito faceva sempre civetta sì che i volumi passandoli sopra il capo andavano tutti a cascare nel mare figuratevi pesci i pesci credendo che quei libri fossero roba da mangiare correvano a frotta a fior d'acqua ma dopo aver abboccato qualche pagina qualche frontespizio la risputavano subito facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire non è roba per noi siamo avessi a cibarci molto meglio intanto il combattimento si infervoriva sempre più quando ecco che un grosso granchio che era uscito fuori dall'acqua si era ad agio ad agio arrampicato sulla spiaggia gridò con una vociaccia di trombone infreddato smettetela merichidi che non siete altro queste guerre madesche fra ragazzi raramente vanno a finir bene qualche disgrazie accade sempre povero granchio fu lo stesso che avesse predicato al vento anzi quella birba di pinocchio voltandosi gli disse chetati granchio dell'ugia faresti meglio a succhiare due pasticche di lichene per guarire da questa infreddatura alla gola vai piuttosto a letto e cerca di sudare in quel frattempo i ragazzi che avevano finito ormai di tirare tutti i loro libri occhiarono lì a poca distanza il fagotto dei libri del burattino se ne impadronirono fra questi libri c'era un volume rilegato in cartoncino grosso con la costola con le punte di carta pecora era un trattato di aritmetica vi lascio immaginare quanto fosse pesante uno di questi monelli al guantò quel volume e presa di mira la testa di pinocchio lo scagliò con grande forza quanta forza aveva nel braccio ma invece di cogliere il burattino colse nella testa uno dei compagni il quale diventò bianco come un panno lavato non disse altro che queste parole o mammina mia aiutatemi perché muoio poi cadde disteso sull'arena alla vista di quel morticino i ragazzi spaventati si dettero a scappare a gambe in pochi minuti non si videro più ma pinocchio rimase lì e sebbene per il dolore per lo spavento anche lui fosse più morto che vivo non di meno corse a inzuppare il suo fazzoletto nell'acqua del mare e si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuola e piangeva si disperava eugenio eugenio mio apri gli occhi guardami perché non rispondi non sono stato io sai che ti ho fatto tanto male se tieni gli occhi chiusi mi farai morire anche me o dio mio come farò a tornare a casa con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma che sarà di me dove fuggirò sono un testade un caparbiaccio lascio dir tutti poi fu sempre a modo mio e dopo mi tocca scontarle e così da che sono al mondo non ho mai avuto un quarto d'ora di bene dio mio che sarà di me che sarà di me e pinocchio continuava a piangere a lacrimare a berciare a darsi dei pugni nel capo a chiamare per nome il povero eugenio quando sentì a un tratto il rumore sordo di passi che si avvicinavano si voltò erano due carabinieri che cosa fa così sdraiato per terra domandò uno dei carabinieri a pinocchio assisto questo mio compagno di scuola che gli è venuto del male pare di sì altro che male questo ragazzo è stato ferito in una tempia chi è che l'ha ferito io no se non sei stato tu chi è stato dunque che l'ha ferito io no e con che cosa è stato ferito con questo libro e burattino raccattò di terra il trattato di aritmetica rilegato e questo libro di chi è mio basta così non occorre altro rezzati subito e vieni via con noi ma io via con noi ma io sono via con noi prima di partire i carabinieri chiamarono alcuni pescatori che in quel momento passavano per l'appunto con la loro barca vicino alla spiaggia e dissero loro vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo portatelo a casa vostra e assistetelo domani torneremo a vederlo quindi si volsero a pinocchio e dopo averlo messo in mezzo a loro due gli intimarono con accento soldatesco avanti e cammina spedito se no peggio per te senza farselo ripetere il burattino cominciò a camminare per questa viottola che conduceva al paese ma il povero diavolo non sapeva più nemmeno lui in che mondo fosse gli pareva di sognare e che brutto sogno era fuori di sé i suoi occhi vedevano tutto doppio le gambe gli tremavano e poi pensava oddio mio tra poco passerò davanti alla casa della mia mamma della fata erano già arrivati stavano per entrare in paese quando una folata di vento fece volare il berrettino di pinocchio e pinocchio disse si contentano che vada a riprendere il mio berretto vai pure ma facciamo una cosa lesta il burattino andò raccattò il berretto ma invece di metterselo in capo se lo mise in bocca fra i denti e poi cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia del mare andava via come una palla di fucile i carabinieri giudicando che fosse difficile raggiungerlo li aizzarono dietro un grosso cane mastino che aveva guadagnato il primo premio in tutte le corse per cani ma pinocchio correva più di lui e tutti a guardarlo dalle finestre dalle strade ansiosi di vedere la fine di questo palio feroce ma non poterono levarsi questa voglia perché il cane mastino e pinocchio sollevarono lungo la strada tanta di quella polvere che dopo pochi minuti non fu più possibile di vedere nulla